Da dove provengono? Da chi sono stati realizzati? E, soprattutto, chi raffigurano? Sono ancora tante le domande senza risposta riguardanti i bronzi dorati di Pergola. Anche per questo venerdì scorso, a 75 anni dal loro ritrovamento, al Teatro Angel Dalfoco si è tenuto un importante convegno dal titolo Riflessi Dorati per fare il punto su ciò che sappiamo e soprattutto sulle tantissime cose ancora da scoprire. Perché non basta sapere che nel deposito del Museo archeologico di Ancona vi siano custoditi 374 frammenti che, grazie ad alcune nuove tecniche di restauro, potrebbero venire riassemblate ai bronzi e farci fare così dei significativi passi avanti. La fiducia è tanta e certamente motivata, ma le incognite restano ancora troppe. Ancora oggi i punti fermi, le certezze sono pochissime. La prima è il luogo dell'invenimento, cioè Santa Lucia di Calamello nel comune di Pergola. La seconda è la datazione, perché ormai diciamo che tutti gli studiosi sono d'accordo nel datare le sculture al terzo quarto del primo secolo avanti Cristo, quindi siamo grossomodo tra 50 e 20 avanti Cristo, in epoca tardo-repubblicana o gli inizi dell'età augustea. Tutto il resto, a parte i dati che ci vengono dal metallo, quindi dati chimici, quindi dati derivati da analisi certe, tutto il resto è ancora opinabile. Le ipotesi su chi il gruppo rappresenti sono tante, nessuna di queste è provata al 100%. Stessa cosa per quanto riguarda il luogo in cui queste statue erano collocate o dove queste statue stavano andando, perché c'è anche l'ipotesi che non siano mai state poste sulla loro base. E non sappiamo neanche con certezza il luogo di creazione delle opere, anche se le analisi fatte negli anni Ottanta ci portano all'area Campano-Laziale, quindi probabilmente la fonderia si trovava in Lazio o in Campania. Ecco, tutto il resto è ancora da scoprire. I bronzi dorati sono motivo di orgoglio per la comunità pergolese, ma anche un potente volano per il turismo di tutto il territorio locale. È importante, è importante intanto che se ne parli, ma è importante anche per la promozione turistica della città di Pergola, che è la cosa che noi come Confcommercio facciamo in convenzione con il Comune. Da anni gestiamo il Museo dei Bronzi Dorati e anche nella nuova versione con la sala immersiva di Paco Lanciano. Il Museo rappresenta veramente un punto di riferimento per il turismo nella nostra regione. Finito il convegno, già domani noi saremo a Bergamo per la fiera del turismo, dove i bronzi dorati saranno al centro della nostra proposta. Così come la prossima settimana avremo prima un press tour con la stampa nazionale e poi la fiera del turismo di Padova, dove ancora una volta i bronzi dorati, magari anche con qualche notizia in più che potrà venire dal convegno di oggi, saranno al centro della nostra attenzione. Abbiamo l'onore di custodire i bronzi dorati, un reperto veramente unico nel nostro museo, nel nostro territorio e sicuramente questi rappresentano per noi un'eccellenza. Io credo che come amministrazione abbiamo il dovere di farli conoscere, di farli apprezzare, di parlarne a tutti, attirando persone qui che possano quindi goderne a pieno, che possano vederli, che possano apprezzarli, ma che possano poi visitare anche tutto il nostro territorio, non solo la nostra città, ma il territorio circostante. In questo modo i bronzi possono rappresentare una vera risorsa anche a livello economico per lo sviluppo di un territorio sicuramente più ampio. Ecco, credo che in questa direzione ci sia ancora molto da lavorare. Quest'anno appunto celebriamo il 75esimo dal ritrovamento per cui il nostro assessorato alla cultura, l'assessore Ciro Mariani insieme all'assessorato al turismo hanno organizzato questo convegno per ridare, quindi rilanciare anche da un punto di vista accademico questo gruppo equestre che è ancora avvolto da tanto mistero. È dal 1989 che nessuno si occupa più in maniera monotematica dei bronzi, per cui questa è stata un'occasione appunto per approfondire e rilanciare tutto l'interesse del mondo accademico e scientifico su questo gruppo che appunto, ripeto, è essere unico al mondo. Le speranze come sempre sono buone, gli studi procedono sempre con il passare del tempo, anche con nuove tecnologie e quindi ci auguriamo di ritrovare nuove risposte, almeno a qualche quesito nei prossimi anni e magari anche nei prossimi mesi.